Presentata nella sede provinciale della Sala Pagliacci questa mattina la prima edizione del Festival del Cinema di Spello, rassegna concorso le professioni del cinema, in programma nella splendidissima Colonia Iulia dal 1 al 3 marzo. Ad aprire i saluti è stato il presidente della provincia di Perugia, Marco Vinicio Guasticchi, che ha ricordato come anche la provincia è legata alla città e al festival con Villa Fidelia, che vede ospitare alcune proiezioni e mostre del cinema. Col sindaco già stiamo parlando da tempo di questa possibilità di attivare anche dei corsi di formazione specializzati proprio per le figure professionali del mondo del cinema. Questo vuol dire rimodulare, rimodellare quello che è un'economia che oggi è in seria difficoltà ma che con l'intelligenza anche di amministratori, perché il sindaco, devo applaudirlo pubblicamente, ha avuto un'eccezionale intuizione, si può riuscire a trovare una via nuova, una strada nuova che nell'arco di poco tempo potrebbe dare posti di lavoro e soprattutto potrebbe far conoscere la nostra regione in tutto il mondo. Un evento propositivo per il sindaco di Spello, Sandro Vitali. Questo festival del cinema che si viene a Spello è la prima edizione, mi auguro che possa avere veramente un risultato importante. Tra l'altro viene tenuto in due luoghi importanti strategici, Villa Fidelia che tutti conoscono e anche il Teatro Subassio che è una chicca dal punto di vista della location. Quindi sicuramente mi auguro che possa avere veramente un risultato importante soprattutto rivolto ai giovani. Sono dieci film bellissimi selezionati sia di registi giovani che poi di grandi maestri come quello di Ermanno Olmi. E più abbiamo, che non è da poco, un'anteprima nazionale del film Oltre le nuvole di Saverio Di Biagio il venerdì sera. In quell'occasione sarà presente in sala al Teatro Subassio di Spello il regista, i produttori, l'attrice principale nonché Primo Reggiani. Il Festival del Cinema Città di Spello ha scelto anche come immagine l'immagine stilizzata dell'olivo che è un elemento peculiare e caratteristico del nostro contesto pesaggistico e proprio della nostra cultura. La giuria è composta da sette professionisti del cinema che vanno dalla produzione agli attori. L'appuntamento è dal 1 al 3 marzo a Spello. Per conoscere il calendario degli appuntamenti è possibile visitare il sito festivalcinemaspello.com. Grazie. 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 Grazie.